Oh ma, mi è successa una cosa bellissima. Mi hanno promosso. Ora vado a fare le fiere. Papadino non sta bene, per un po' non li può seguire i fuochi. Perché me l'hai detto prima? Tu stai dicendo ora. Ma tu che ne sai dei fuochi d'artificio? No, non è difficile. Ma poi aiuta Nino. Oh ma, sono bellissimi. Li devi vedere, con i fuochi si possono dire un sacco di cose. E siete voi due da soli? Sì. Che c'è ma? Che c'è? Niente. Niente.